Ora, qualcuno dice, sì ma lei sbaglia perché in realtà questi fondi salvastati servono anche per noi. No, non è vero, sto parlando della riforma del MES. A noi non sono mai serviti, non ci hanno mai aiutato, siamo noi che abbiamo aiutato altri e i soldi non sono mai arrivati a casa e parliamo di miliardi. Ma la cosa drammatica è fatta che il governo ci sta dicendo che è una buona cosa per noi, ma quello che non funziona è il metodo con cui questa cosa è stata fatta, cioè con una sostanziale omertà per la quale del Parlamento non c'è stata alcuna informazione al Parlamento. Allora, io come cittadino sono preoccupato non solo dal contenuto che ho già spiegato in precedenti puntate, che è allucinante. Noi mettiamo del denaro in un'operazione ma non possiamo beneficiarne, cioè noi siamo brutti e cattivi, quindi dobbiamo essere cornuti e mazziati. Mettere il denaro ma non possiamo portarlo a casa perché non abbiamo i parametri, a meno di ristrutturare il debito. Voi capite che mi sembra di vivere in un film di fantascienza, poi qualche mio lettore, ma corretto, dice no, è un incubo. Ha ragione lui, è un incubo. Cioè siamo in una società orwelliana nella quale noi non abbiamo nemmeno più il diritto che i nostri rappresentanti in Parlamento siano informati di quello che il governo ha fatto in trattative sovranazionali. Questo è un metodo allucinante, ma soprattutto quello che non mi convince è il fatto che non solo nel passato non ha funzionato, ma non funzionerà mai quella roba lì. Cioè serve sostanzialmente per risalvare banche e cioè serve per operazioni di finanza internazionale, non per i cittadini. Quindi oltretutto se vogliamo tenere sotto controllo spread, borse, mercati eccetera eccetera, c'è uno strumento fondamentale che si chiama banca centrale. Io dico da anni che la banca centrale non può essere indipendente dalla politica, ma deve essere dipendente dalla politica. E questo è il tema centrale del quale io vi voglio parlare. Prova ne sia il fatto che quando c'era già il vecchio fondo salvastati, quindi la vecchia riforma del 2012, dopo c'è stato quello che ha bloccato tutte le spoculazioni, tutte le agitazioni delle borse, ed è stato il whatever it takes del signor Mario Draghi. Nel momento in cui Draghi è andato davanti a una telecamera e ha detto qualsiasi cosa succede la banca centrale copre, che è il ruolo di una banca centrale? Perché? E lo ridico perché fa incazzare qualcuno. stampa denaro dal nulla, questa è la verità, la banca centrale crea denaro dal nulla. Quindi per questo motivo, dal momento che la banca centrale non può per definizione fallire, questo ha tranquillizzato i mercati. Quindi queste riforme sono riforme che servono sostanzialmente per il mondo speculativo finanziario. Basterebbe avere una banca centrale che risponde alla politica, e questa sarebbe la vera riforma da fare, e i cittadini non avrebbero problemi. Buona economia umanistica. Grazie. Grazie. Grazie.